benvenuti ragazzi benvenuti a un nuovo video parto intanto dicendo che vi ringrazio per i commenti che state mandando i messaggi mi fa piacere che quello che sto facendo sia apprezzato soprattutto perché come alcuni di voi mi hanno detto insomma non sono contenuti che si trovano facilmente quindi intanto vi ringrazio se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che pubblico e partiamo subito con l'argomento di oggi allora oggi parliamo di un argomento che secondo me è una delle materie purtroppo più trascurate all'interno delle università anche se poi però in realtà è una delle cose più importanti per un ingegnere che si approccia al mondo del lavoro o anche comunque per un ingegnere anni di esperienza perché è una delle cose fondamentali e si tratta del concetto della modellazione ok quindi la modellazione ad elementi finiti o la modellazione in generale ma cercherò in questo video di spiegare di più il concetto della modellazione dal punto di vista strutturale che è quella che appunto utilizzano gli ingegneri strutturisti per andare a determinare quello che è il design quindi il progetto di una struttura allora partiamo dal spiegare che cos'è la modellazione ad elementi finiti allora fondamentalmente la modellazione ad elementi finiti non è altro che la simulazione numerica matematica del comportamento di una struttura reale al fine di andarne a determinare la resistenza nei confronti dei carichi agenti su tale struttura ok spiegato in modo abbastanza semplice ora esistono diverse cose a cui bisogna stare molto attenti per approcciarsi in modo corretto al mondo della modellazione ok allora il primo punto ed è una cosa che voglio ribadire forse ribaderò più volte in questo video è che noi dobbiamo partire dal concetto e ricordarci del concetto che la modellazione è una simulazione ok ragazzi è una simulazione di quello che è la realtà non è la realtà quindi la modellazione è un'approssimazione della realtà quindi qualsiasi struttura io vado a replicare a modellare che sia un edificio esistente che sia un edificio nuovo che sia questo tavolo qualsiasi cosa la vado a fare come una simulazione quindi mi vado ad avvicinare a quello che è il comportamento reale della struttura e mi vado ad avvicinare con una con un'approssimazione che ha un errore che può avere un errore sempre più piccolo ma non sarà mai esattamente uguale al comportamento reale della struttura ok voglio che questa cosa qui sia chiara perché è fondamentale capire questo concetto per poi andare a comprendere il fatto che la modellazione è uno strumento non è diciamo la legge e tutto quello che viene fuori da un modello lo prendiamo come vero e lo applichiamo questo è il primo concetto che ci tengo a ribadire detto questo andiamo a vedere quelli che sono i punti fondamentali che a mio avviso soprattutto appunto se siete studenti poi sicuramente approfondirò questi argomenti e in modo un pochettino più tecnico ma oggi vi voglio dare una descrizione per aiutarvi a capire come approcciarvi nel modo migliore a questo mondo e sia che siate appunto neofiti sia che comunque abbiate dell'esperienza e volete capire quali sono i punti fondamentali che devono essere presi in considerazione allora partiamo ovviamente dalla base e che è quella di andare ad avere una conoscenza teorica dell'argomento ovviamente io in questo video non entrerò nel dettaglio della teoria però è fondamentale che voi andiate a fare un minimo di studio per andare a capire quelle che sono le basi che da un certo punto di vista probabilmente sono anche un po' noiose perché si tratta comunque di matematica polinomi e tutte queste cose però è fondamentale capire come ragiona un programma che cosa vuol dire teoria degli elementi finiti e perché vengono utilizzati appunto questi software per andare a fare queste analisi allora un'indicazione proprio primaria che vi voglio dare è questa qui fondamentalmente quando io vado a fare un modello di una struttura la teoria degli elementi finiti dice che più io vado a discretizzare l'elemento infatti lo vado ad approssimare appunto con delle funzioni più vado a discretizzare quindi a suddividere l'elemento quindi a simularlo diciamo con una determinata funzione piuttosto che un'altra più mi avvicino a quello che dicevamo prima cioè al risultato esatto della della soluzione matematica ok quindi questo qua è diciamo il concetto generale però c'è dietro molto altro quindi vi consiglio tanto se durante il vostro corso di studi non è stato accennato questo argomento minimamente a volte vengono fatte comunque delle lezioni dei corsi di analisi computazionale dove qualcosa viene indicato se non l'avete fatto andate comunque a studiarvi le basi perché questo è assolutamente importante detto questo una volta studiate quelle che sono le basi si va ad approcciarsi a quello che è il software il software diventa appunto anche questo importante ma in realtà a mio avviso non è la cosa fondamentale perché il software è semplicemente lo strumento che voi andate a utilizzare per applicare la modellazione ad elementi finiti quindi la modellazione la potete andare a fare con qualsiasi tipo di software l'importante è che andate a rispettare questi punti che adesso vi ho in parte e che vi dirò e il software diventa fondamentalmente uno strumento che ovviamente bisogna comprendere appieno perché ogni software ha il suo determinato comportamento e il suo modo di ragionare di fare le cose eccetera però è importante più che altro capire cosa io vado a dare in pasto al software e cosa il software mi restituisce per comprendere bene i risultati che ottengo e non commettere degli errori che mi possono poi creare delle problematiche ovviamente la scelta del software poi dipende anche tra tanti altri parametri come possono essere esigenze personali del progettista con cui non entro nel merito però il concetto ovviamente è quello di scegliere un programma con cui ci si trova bene e con cui allo stesso tempo si riescono a fare a mio avviso tutta una serie di operazioni che non sono a scatola chiusa nel senso che ci sia comunque la libertà da parte del progettista di andare a intervenire su determinati parametri perché esistono dei software dove tu vai a mettere diciamo una quantità di dati molto limitata e poi lui ta 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 e ti tira fuori dei risultati ecco quello per me non è il massimo nel senso io devo avere la possibilità sia di fare un modello diciamo un po più chiuso sia se voglio ad esempio non lo so modellare questa penna posso modellare questa penna oppure mi adeguo al fatto che per modellare questa penna avrò bisogno di un altro software e invece per fare cose magari di un certo tipo un altro software ancora in modo da non essere limitati non decidere di modellare questa penna con quel software chiuso per poi andare a ottenere dei risultati che non hanno senso questo è il concetto e quindi una volta scelto quello che è il software andiamo alla parte più importante cioè quella dell'immissione dei dati ok all'interno del programma quando io vado a immettere i dati all'interno del software ho una serie di step che devo rispettare al fine di riuscire a fare un inserimento corretto e non commettere degli errori che poi mi vado a portare dietro mi creano delle problematiche anche non indifferenti ok quali sono questi step si parte sicuramente dall'inserimento dei materiali ok quindi materiali che compongono la struttura e le loro caratteristiche che siano essi materiali nuovi o esistenti l'inserimento dei carichi agenti sulla struttura ok quindi carichi permanenti variabili azione sismica azione del vento tutti questi carichi e poi la parte che è secondo me di fondamentale importanza è della parte dove vedo più errori in assoluto da parte di chi inizia ad approcciarsi questo mondo è quella delle condizioni al contorno cioè i vincoli che agiscono sulla struttura ragazzi dovete fare molta molta attenzione perché questa parte qui è quella forse più complicata da approcciare perché i vincoli non rappresentano altro che il modo con cui quella struttura è diciamo legata con il mondo esterno cioè cosa voglio dire lo spiego in modo un pochettino diciamo migliore immaginate di avere un edificio collegato ovviamente alle sue fondazioni a terra voi dovete andare a simulare quello che è il vincolo tra la fondazione e la sovrastruttura ok questo è un vincolo che voi dovete andare a rappresentare nel modo corretto avete un nodo strutturale ad esempio in acciaio ok un'aggiunzione in acciaio quello è un vincolo che dovete andare a rappresentare nel modo corretto ok questo a volte crea dei problemi sia quando si deve rappresentare l'esistente ma anche quando si progetta il nuovo perché a volte nel modello si realizza un vincolo nella realtà se ne realizza un altro ok quindi magari voi fate un nodo a incastro o un nodo a cerniera e poi nel modello realizzate un incastro e viceversa per questo è molto molto importante comprendere i vincoli e realizzarli nel modo corretto altra cosa molto importante è anche capire dove vanno questi vincoli perché un altro errore che vedo spesso commettere è mettere dei vincoli dove non ci vanno e questo è un problema molto grosso perché se voi avete una struttura dove immaginate non lo so è incastrata alla base e poi a un certo punto là in mezzo in alto vi scappa un vincolo attenzione perché questo è un problema molto grosso perché vuol dire che voi in quel punto mettiamo caso vi scappi un appoggio no in quel punto state andando a raccogliere delle azioni ok delle reazioni vincolari che in realtà non esistono quindi questo vi sballa tutto il comportamento della struttura e adesso arriviamo anche a questo discorso un altro punto importante che non bisogna scordarsi è quello di tenere conto di eventuali non linearità o instabilità che possono essere non linearità geometriche o instabilità di vario tipo per quel tipo di struttura e questo va fatto ovviamente nell'ottica anche del tipo di analisi che uno deve andare a fare fatte le nostre analisi ok andiamo poi a determinare i nostri risultati e qui entra in gioco un'altra cosa molto 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 importante nella modellazione soprattutto se vi state approcciando oggi alla modellazione che è quella di verificare quello che avete fatto soprattutto se siete all'inizio dovete cercare di guardare guardare perdere perdere tempo ragazzi perdere anche delle ore a guardare le deformate dei modelli a guardare le sollecitazioni dei modelli a guardare come si sposta come si muove in modo da andare a capire se avete fatto dei macroerrori che all'inizio spesso si fanno ovviamente perché uno non ha ancora quella di mistichezza però il modo il modo più importante per riuscire a determinare e capire questi macroerrori è andare a guardare il comportamento del modello non fate come oggi spesso purtroppo a volte si insegna di passare dalla parte di inserimento dei dati a quella delle verifiche ok è verde sono a posto no guardate il modello guardate come si comporta e imparate a farvi le domande fatevi le domande su quello che vi aspettavate ovviamente all'inizio questa cosa sarà più difficile perché dovete acquisire esperienza ma col tempo arriverà e da qui arriviamo a quello che è poi l'ultimo punto che è quello della validazione dei risultati ok perché se non avete fatto un buon controllo l'unico modo per andare poi a capire se avete fatto dei macroerrori è quello di cercare di validare il vostro modello strutturale come si valida un modello strutturale con dei modelli semplificati ok quindi andate a fare dei calcoli a mano molto veloci dei fogli excel tutte queste verifiche manuali che vi devono andare a che vi devono andare a dare un risultato che non è ovviamente uguale a quello del modello ma deve avere un certo margine di errore ok un 5 massimo 10 per cento insomma a seconda dei casi però se avete un errore che è accettabile allora potete dire ok è un calcolo speditivo bene mi torna e quindi ho fatto una corretta modellazione se non mi torna allora in quel caso dovete andare a riguardare il modello cercare di capire cosa e dove avete sbagliato e perché non mi torna in alcuni casi la modellazione soprattutto per strutture di una certa importanza anzi questo viene spesso proprio richiesto dai bandi viene fatta non solo manualmente ma viene fatta proprio con degli altri modelli infatti mi è capitato a volte di ricevere degli incarichi cioè proprio degli incarichi come tecnico terzo per fare la validazione strutturale di un modello che ha fatto un altro tecnico che può essere simpatico dire ho fatto la validazione della validazione perché è capitato anche quello però insomma quando ci sono strutture di una certa importanza appunto perché l'errore umano esiste bisogna che i conti tornino e si controlla che più persone con più software magari anche abbiano gli stessi risultati quindi ragazzi questi sono i concetti fondamentali spero in questo video di avervi dato una base importante su come approcciarvi al mondo della modellazione come sempre se avete domande fatemele nei commenti e ricordate ricordatevi sempre che la modellazione è una approssimazione della realtà non è la realtà ok bene ragazzi ci vediamo al prossimo video io vi saluto e alla prossima ciao